Ci siamo, il popolo bianco-verde tra poche ore si metterà in cammino per raggiungere il maglio scopigno di Rieti, un esoto quello erpino che vedrà oltre 4.000 innamorati bianco-verdi armati di sciarpe, bandiere, tamburi e passione colorare l'impianto reatino. Complessivamente il tifo organizzato è riuscito a creare un torpedone di 25 pullman di cui una decina si ritroveranno nei pressi del bar Broadway, poi tutti si riuniranno a Valle dove è stato fissato il raduno organizzativo alle 9.30. Il resto della carovana si congiungerà al fiume Erpino direttamente a Rieti. In tantissimi invece raggiungeranno il capoluogo di provincia reatino con mezzi propri. Nel frattempo la questura di Rieti ha consigliato vivamente a coloro i quali non fossero in possesso di biglietto a non mettersi in viaggio. Del resto sono tantissimi gli sfortunati che per questo motivo non potranno essere vicino ai propri beniamini. Voltando pagina ma rimanendo sempre sul tema tifosi sono attesi allo scopigno molti supporters irpini dal mondo, presenti anche dalla Svizzera, dalla Spagna e dall'Olanda passando per il Sud America dove Joel è già in volo dall'Argentina. Padronde Cesare ha esaudito il sogno di un figlio dell'Irpinia di un emigrante pagando il biglietto di andata e ritorno da Buenos Aires per assistere alla gara. Ricco anche il parter delle celebrities, il dragomolino, eroe di Crotone, ha addirittura organizzato un pullman per accompagnare i suoi piccoli calciatori della sua scuola calcio. Allo spareggio promozione non mancherà Gigi Marzullo tifosissimo del lupo, estimato giornalista Rai, conduttore tra le altre del programma tv sottovoce. Ci sarà anche il vice direttore del Tg2 Andrea Covotta, arianese innamorato dei colori bianco-verdi. Gli ingredienti per scrivere la storia calcistica di questo capoluogo di provincia ci sono tutti. Ora non resta che un ultimissimo passo da compiere, un ultimo sogno da realizzare, qualcosa finora solo sussurrato ma che adesso più che mai ha voglia di essere urlato a squarciagola.